Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Road to DNA infetto ragazzi ovvero questa qui è la serie dove cerco di fare 30 uccisioni senza mai morire per lanciare la DNA in modalità infetto ovvero non ci riuscirò mai e poi mai forse nell'episodio numero 2580 forse riuscirò a farlo oh occhio mi hai fatto prendere un colpo tutti qua sopra dobbiamo essere ragazzi tutti vicini tempo aumentato via andiamo giù di qua perfetto oh doppia per Bistard attenzione iniziamo già bene vai così avanti già due ce ne mancano 28 ragazzi chiaramente se dovessero colpirmi e divento un infetto ci divertiremo ragazzi a infettare tutti gli altri che cavolo fanno sparano al laser tra di loro vai così non farmi prendere colpi strani io sto qua dietro seduto sulla seggiola sulla cadrega vai non c'è nessuno avanti forse laggiù ho visto muoversi qualcuno boh io con quest'arma ragazzi mi trovo meglio sparare così senza mirino senza niente perché è lenta guardate quanto è lenta a tirare sul mirino è una cosa inverosimile peggio di un ipopotamo eccolo lì eccolo lì è E muori Avanti Dov'è la gente ragazzi Quindi si divertono Ma che cavolo succede qua C'è la gente che sta sparando a caso Vai Siamo in allo ragazzi Con le spade laser Tempo aumentato Da quella parte Eccolo Avanti In teoria uno dovrebbe sparare Quando vede i nemici Così gli altri sanno un po' da che parte arrivano Beh ragazzi cambiamo postazione Perché mi sa che qua C'è solamente un infetto No dai Acquittato Non è possibile ragazzi Non è riuscito a uccidere nessuno Il primo infetto E acquittato dalla partita La prima volta che mi capita In assoluto Non ci credo Eccolo qui l'infetto Andiamo così E siamo a due A otto Ma che cavolo Non eravamo a dieci prima Hanno fatto infettare 800 miliardi di persone No Adesso la vedo male Adesso la vedo Molto male Grandissimi ragazzi Conta la rovescia Ancora Tutti che quittano Ragazzi Ma che cavolo è Ma che La partita dei quittoni è Non ci credo Vai E poi Chi è l'infetto Vai Tutti qua sopra ragazzi Stiamo qua sopra vicini No Che cavolo 5 contro 1 Ne hanno infettato un altro Eccoli là Che arrivano da sotto Ne hanno seccato Sopravvissuto Olè Ma che Questa è una partita Veramente stranissima Tempo aumentato Oh Ne hanno infettato un altro Tempo aumentato Oh Un altro ancora 3 contro 3 Però questa qui dovrebbe essere La Olè Un abbin Ha abbandonato Ah Vai No Muori Esegui 10 uccisioni Senza Vai Attenzione ragazzi Siamo gli ultimi 3 No Ma dai Che schiappa Che schiappa Ragazzi Beccato Uh L'ha lisciato Sono io l'unico infetto Devo vedermela con tutti gli altri Dai L'avevo beccato Gioco baggato No Ma dai Una partita di quittoni È stata Non ci credo Ed eccoci qui Con la seconda partita Come vedete Siamo In questa mappa Che a me Non dispiace Per nulla Ma poi qua Verrà completamente Sommersa D'acqua Chi sarà il primo infetto Olè Ce l'abbiamo L'abbiamo scampata Ragazzi Ce l'abbiamo Fatta Non siamo i primi infetti Quindi il road to DNA bomb Può Iniziare Dove sono Dov'è l'infetto Infetto Infetto Ci sei Boh Non vedo Non vedo nessuno Qua Utilizziamo un po' Di esoskeletri Così almeno Si accorgono No Sopravvissuto Allora Mi hanno infettato Uno da questa parte No eh Sono tutti qua dietro Tempo aumentato Tempo aumentato E muori Oh Solid marker Fa sto fucile Ok Che ho una mira Che fa schifo Però Come cavolo Essere possibile Una roba del genere Ragazzi Oh Assist Ricarichiamo Tempo aumentato Buttiamoci giù Allora Io controllo La parte sinistra E te La destra Amico No Ok Sei andata a farfalle Ottimo Tempo aumentato Ragazzi Vai Avanti Dove sono Eccoli Sono tutti Da quella Beccato Non sa neanche lui Come ha fatto Morire E muori No Quello è morto Maledetto Vai Avanti Così Ce n'è uno vicino Adesso Adesso li vado anch'io Contro Ole Morino Da dietro Erno in tre Ragazzi Purtroppo La mia Proagine Ha finito Vai Così Mi sono divertito Un casino Assettato di sangue Vai così Vai così Che sono tutti Qua dietro Mettiamo una bella Infiltrazione Tattica Ragazzi 10 a 2 Ce n'è Veramente Solamente 2 Dai L'ultimo Lo voglio fare Io No Maledetto Era mio Quello Vieni qua Cavalletta Maledetto Vieni qua Che ti massacro No Lo voglio uccidere Io Maledetti No C'ero quasi Quindi ragazzi Niente Io direi che il video Per oggi Può finire Qua Lasciate tantissimi Pollicioni in su Per altri video Lasciate un commento Condividete il video Passate nella pagina facebook Iscrivetevi al canale Qua da mi stardo è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao